Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida che richiede di raccogliere dei libri da cucina a Parco Pacifico e scogliere scoscese. Ci sono tanti libri che potete raccogliere ma la sfida ne richiede soltanto pochi. Quindi diciamo io vi mostro la posizione dei libri poi ovviamente decidete voi quali raccogliere. Vi anticipo che in questo video non ci sono ancora i libri perché ovviamente l'incarico o sfida non è ancora disponibile. Quindi io vi mostro la posizione che è quella corretta poi quando sarà disponibile l'incarico o sfida allora potrete raccoglierli. I libri si trovano nelle cucine quindi in ogni casa troverete una cucina con un libro. Quindi entrate nella prima casa andate qui e trovate un libro. Poi uscite andate nella casa a fianco sempre nella cucina e trovate l'altro libro. Ecco la cucina il libro lo trovate per terra. Poi uscite fuori da qui andate nell'altra casa e fate questo per tutte le case qui intorno. Quindi entrate nella porta andate direttamente nella cucina e trovate il libro. Quindi diciamo a parco pacifico i libri sono presenti nelle case che trovate man mano che avanzate. Quindi entrate andate nella cucina e trovate il libro per terra. Adesso andiamo a scogliere scoscese. Ok adesso a scogliere scoscese i libri si trovano bene o male allo stesso modo di parco pacifico. Quindi andate qui in questa casa aprite la porta e trovate il libro qui. Quindi uscite fuori andate qui aprite la porta e trovate il libro in cucina. Uscite fuori scendete le scale. Entrate in questa sorta di torre per trovare il libro sotto le scale. E così via dicendo. Quindi come a parco pacifico troverete i libri nelle varie case che esplorerete. Quindi potete anche prenderne un paio a parco pacifico e un paio a scogliere scoscese per completare l'incarico o sfida.